Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 24 agosto 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo gemelli. Progetti stratosferici per il weekend. Appena rientrati dalle vacanze a cosa pensate oggi prima di timbrare il cartellino d'uscita? A dove trascorre il weekend naturalmente, approfittando degli inviti di vari amici ancora in giro. Per sportivoni del vostro calibro, ancora più potenti da che Marte e Giove transitano nel vostro segno, optereste per la montagna con le varie specialità, dalla scalata fino allo Sky Marathon per i più ardimentosi. Andranno benone però anche le altre destinazioni, mare, ballo, bisbocce e bravate tra amici, senza esagerare però, raccomanda venere giudiziosa inquadratura, sperando che il suo bel drudo Marte innamoratissimo almeno stavolta le dia retta. Complice e affettuosa la famiglia, anche se ne dite e ne fate di tutti i colori vi perdonano sempre, chiudendo entrambi gli occhi sulle vostre pazzie. Battute e bravate intrigano anche gli amici che con voi si divertono follemente, siete il giullare, ops l'anima del gruppo. Uomo di media età, potrebbe essere anche il fidanzato, il marito, un giovane genitore. Un buon lavoratore che ha consolidato la sua posizione economica, un professionista che vive in condizioni agiate. Possibili entrate finanziarie improvvise, fortuna al gioco. Una nota stonata in mattina potrebbe tradursi in una piacevole sorpresa in serata, date credito solo a chi merita la vostra fiducia e di cui siete certi della sincerità. Cercate di proiettarvi nel futuro, provate a pensare con i vostri progetti più in là del presente. Il cielo è carico di energie e forze che vi verranno dispensate secondo necessità. Amici che ritornano sui loro passi, incongruenza, incoerenza, ecco l'immagine che vi farete di alcune persone che oggi potrebbero davvero innervosirvi. Non fate nessuna confidenza. Pigrizia e stanchezza vi assaliranno, rimediate dedicandovi a qualcosa di piacevole e di meno stressante. Buone prospettive per organizzare un viaggio magari in qualche città d'arte o solo per distrarsi. Favorite le mete all'estero. E chi ti dice che oggi non sarà una splendida giornata? Dovreste coltivare maggiormente l'ottimismo e capire che ogni giorno va affrontato con il piglio giusto. Smettetela di pensare sempre a quella persona del vostro passato, guardate avanti e puntate, per ora, ad obiettivi a corta distanza e concreti. Bene la mattinata con solo qualche noia dovuta ad auto, moto o sveglia che suona tardi. Non perdete la calma se circostanze vi faranno arrivare tardi a qualche appuntamento. Chi vi desidera. Aspetterà. Notizie in arrivo da persone lontane. Alcune telefonate potrebbero mettervi in agitazione, affrontate tutto con la consueta vostra intelligenza e usate tutto il vostro buonsenso. È un pacifico giove, in buon aspetto di congiunzione, che tira le fila della vostra buona sorte. Protezioni che arrivano inaspettate in particolare da persone autorevoli o mature, per età, temperamento, condizione sociale o economica, possono rivelarsi, per voi oggi, provvidenziali. E questo in tutti i settori della vostra vita. Questo in special modo se siete nati nella vostra seconda decade. Che grinta sostenuti dal doppio sestile della luna focosissima in ariete e di mercurio altrettanto caliente in leone. In mezzo voi con il vento di giove che alimenta la fiamma e il calore del pianeta rosso che la sostiene. Unico neo il visticcio in gioco tra i due amanti del mito, Marte nel segno e Venere in gemelli che lo taccia, accusando di riflesso anche voi, di inaffidabilità e mancanza di serietà. Avrà ragione? Amore ed eros. Dall'amicizia all'amore il passo può essere il salto del canguro, all'improvviso a fine vacanza vi scoprite innamorate di qualcuno che per un paio di settimane non ha fatto che ronzarvi attorno e corteggiarvi, ma ora, stanco della vostra indifferenza, si è rivolto altrove. Ben vi sta. Malinconico, anche chi la storiella se l'è fatta goduta, ma ormai arrivati al momento dei saluti è inutile voltarsi indietro, le storie a distanza non funzionano. Questa la vostra convinzione, perciò meglio darci un taglio e chiuderla qui. Ma che amarezza! Accesa discussione tra amici per futili motivi, non è il caso però di lasciarsi andare all'alterco rovinandosi la serata. Frenate la lingua, in voi sempre caustica, domattina, passato l'effetto della birra, vi complimenterete allo specchio, avete fatto bene. Una giornata in amore ancora consorti per voi altalenanti, ricordando che sia venere che il sole si trovano in angolo tecnicamente disarmonico dal segno della Vergine. Tuttavia Mercurio nel segno passionale e amico del Leone, vi costringe a venire allo scoperto e a dichiararvi direttamente, anche se la vostra strategia è quella di entrare nel cuore di chi vi piace pian piano, quasi come se foste gli scassinatori di una sofisticata cassaforte. Vi adattate a nuove strategie amatorie con successo. Lavoro e denaro. In azienda sembra che tutto il da fare sia vostro, da quando siete rientrati una marea di incombenze, recuperi, arretrati da sbrigare. Per fortuna avete la forza e la voglia di fare, fino a un certo punto però, per la serata avete altri programmi, molto più piacevoli e rilassanti. Argento vivo addosso anche in vacanza, ma i sazi di esplorare, agire, mettere in luce il vostro personaggio. Siete l'anima del gruppo, smaniosa di divertirvi e divertire, esagerare si può, a fine vacanza tutto è lecito. Gestirete una questione un po' spinosa con un collega in ufficio con il garbo, l'equilibrio, l'innata diplomazia, che da sempre, vi contraddistinguono. Perché oggi atterrete una vittoria che consisterà in una rapida risoluzione di una controversia, che, altrimenti si sarebbe portata molto per le lunghe. Questa ipotesi previsionale è più centrata se appartenete alla terza decade gemellina. Benessere. La stanchezza c'è, dopo una settimana di lavoro o una vacanza intensa e spericolata potreste mostrare un cedimento, ma naturalmente farete di tutto per non ammetterlo. Pimpanti e iperattivi fino al cedimento, a tirarvi su rivitalizzandovi i complimenti di qualcuno e l'indice di gradimento della compagnia, siete l'animatore, il mgiullare, il re della festa. Questo è il ricordo che dovrete lasciare ai nuovi amici prima di tornare al solito malinconico tran tran. Per lei, strano conflitto con mammina, ma in realtà le guerra fondaie siete voi e se anche si è permessa di criticare una delle vostre amiche non è il caso di iniziare un bombardamento come quello su Dresda. Per lui, in vacanza scorribbande da mattina a sera, per calmarvi occorre una pizza doppia mozzarella, con birra extra large per mandarla giù. E allora, miracolo, anche a voi cala la palpebra e sonnecchiati come bimbetti sul seggiolone. Colore delle emozioni, rosso fuoco. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno, sentimenti, 5, attività, 10, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.